E' prevista la realizzazione di una discarica. Questa discarica dovrà sorgere in una zona con Trada Stallaini, che è l'altopiano Ibleo, ed è una zona a livello verde all'interno del piano paesaggistico, con tutela 2, ed è una zona interclusa tra due zone che sono invece a livello rosso con un livello di tutela 3, che è il massimo livello. Queste due zone sono Cava Grande del Cassibile, il Bosco di Baulì e Cava delle Cinque Porte. La Regione ha dato pareri favorevoli per la realizzazione di queste discariche, però ancora manca il parere definitivo della sovrintendenza. Noto nel 2010 ha espresso chiaramente un parere negativo sulla realizzazione di questa discarica, appunto perché si andrebbe a rovinare un pezzo di territorio che è una risorsa economica e turistica del nostro territorio. La realizzazione di questa discarica in una zona già sotto tutela è un chiaro scempio alle risorse che ha il nostro territorio, dal punto di vista naturalistico, archeologico e in futuro turistico. Già in Cava Grande arrivano decine di migliaia, quasi centinaia di migliaia di turisti ogni anno e sono una risorsa inestimabile sulla quale dobbiamo investire. Ora dobbiamo scegliere se investire nella realizzazione di discariche che distruggono il territorio o investire in un piano di sviluppo sostenibile che senza dubbio porterà ricchezza nella provincia di Siracusa. Tra l'altro la discarica si dovrebbe realizzare poco sopra dei torrenti sotterranei. Questo potrà creare un danno enorme, un gravissimo danno, un avvelenamento del territorio e dei campi agricoli. Per queste ragioni i giovani democratici dicono no alla discarica. Abbiamo organizzato una raccolta firme che si terrà domani, domenica, ad Avola in Piazza Umberto I e a Noto in Corso Vittorio Emanuele. Invito anche voi a partecipare e a dire no alla discarica.